Ci sono certe città sconosciute il cui nome per inattese, terribili, clamorose catastrofi, talvolta acquista improvvisa fama europea e che sergono in mezzo al secolo come una di quelle paline storiche piantate dalla mano di Dio per l'eternità. Tale è il destino di Pizzo. Senza annali nel passato e probabilmente senza storia nell'avvenire, essa vive sulla sua gloria di un giorno ed è diventata una delle stazioni omeriche dell'Iliade napoleonica. Infatti è noto che fu nella città di Pizzo che Murat venne a farsi fucilare, là che quest'altro a Iace trovò una morte oscura e cruenta, dopo aver creduto per un istante che anche lui, pur avendogli dei contro, sarebbe riuscito a salvarsi. Due parole sulla fortuna straordinaria di quest'uomo, il cui nome, malgrado il ricordo di tutti gli errori che ad esso si collegano, è diventato in Francia il più popolare dopo quello di Napoleone. Il suo fu un destino singolare. Nato in una locanda, cresciuto in un paese povero, Murat riesce, grazie alla protezione di una nobile famiglia, ad ottenere una borsa di studio nella scuola di Caorz, ma la lascia ben presto per andare a completare i suoi studi nel seminario di Tolosa. Sta per diventare prete, è già su diacono, lo chiamano già reverendo Murat, quando, per una colpa lieve di cui non vuole scusarsi, lo rimandano alla Bastide. La ritrova la locanda paterna, di cui, per qualche tempo, diventa il domestico capo. Ma ben presto, questa vita lo stanca. Il dodicesimo reggimento dei cacciatori passa davanti a casa sua, si presenta dal colonnello e si arruola. Sei mesi dopo, è maresciallo d'alloggio, ma un atto di indisciplina lo fa cacciare dal reggimento, così come era stato cacciato dal seminario. Suo padre lo vede ritornare per la seconda volta e lo accetta solo a condizione che riprende il suo posto tra i servitori. Proprio allora viene istituita la guardia costituzionale di Luigi XVI. Murat è invitata ad aderirvi. Parte con un suo compagno e arriva con lui a Parigi. Il compagno si chiama Bassier, sarà il futuro duca d'Istria. Non passa molto e Murat abbandona la guardia costituzionale, così come aveva abbandonato il seminario, così come aveva abbandonato il primo reggimento. Entra nei cacciatori con il grado di sottotenente. Un anno dopo è tenente colonnello. È il periodo in cui è un rivoluzionario arrabbiato. Scrive al club dei Giacobini per cambiare il suo nome da Murat in Marat. Nel frattempo giunge il 9 Termidoro e siccome il club dei Giacobini non ha affatto in tempo ad accogliere la sua domanda, Murat mantiene il suo nome. Giunge il 13, vendemmiaio, e Murat si ritrova agli ordini di buona parte. Il giovane generale fiuta l'uomo di guerra, ottiene il comando dell'armata d'Italia. Murat diventa il suo aiutante di campo. Il prestigio di Murat cresce con l'uomo alla cui fortuna si è legato. È vero che Murat partecipa a tutte le vittorie. È sempre il primo a caricare alla testa del suo reggimento, è il primo ad andare all'assalto, è il primo ad entrare nelle città. Così in meno di sei anni diventa successivamente generale di divisione, generale capo, maresciallo dell'impero, principe, grande ammiraglio, grande aquila della legion d'onore, granduca di Berg, re di Napoli. Colui che voleva chiamarsi Murat si chiamerà Joachim Napoléon. Ma il re delle due Sicilie è sempre il soldato di Rivoli e il generale Dabukir. Della sua sciabola ha fatto uno scettro e del suo elmo una corona. Questo è tutto. Ostrovno, Smolenk e la Moscova lo ritrovano così come l'avevano conosciuto la corona e il tagliamento. E il 16 settembre 1812 entra per primo a Mosca come il 13 novembre è entrato per primo a Vienna. Qui finisce la vita gloriosa e trionfante. Mosca è l'appoggeo della grandezza di Murat e di Napoleone. Ma l'uno è un eroe, l'altro è soltanto un uomo. Napoleone cadrà, Murat perirà. Il 5 dicembre 1812 Napoleone affida a Murat il comando dell'esercito. Napoleone ha fatto di Murat quello che egli è. Murat gli deve tutto, gradi, posizione, fortuna. Gli ha dato sua sorella e un trono. Da garzone di Loganda lo ha fatto divenire re. Di chi potrà affidarsi Napoleone se non si fida di Murat? L'ora del tradimento sta per venire. Murat l'anticipa. Lascia l'esercito. Gira le spalle al nemico. Murat, l'invincibile, è vinto dalla paura di perdere il trono. Giunge a Napoli per mercanteggiare la sua corona con i nemici della Francia. Inizia dei negoziati con l'Austria e la Russia. Cada pure il vincitore d'Austerlitz e Marengo. Che importa? L'importante è che resti in piedi il fuggitivo di Wilma. Ma appena Napoleone ha dato un calcio per terra subito 300.000 soldati ne sono venuti fuori. Il gigante atterrato ha appena toccato sua madre e come Anteo eccolo di nuovo in piedi per una nuova lotta. Murat sente con preoccupazione quel cannone settentrionale che risuona ancora in fondo alla sax quando crede che lo straniero sia nel cuore della Francia. Due nomi di vittorie giungono sino a lui e lo fanno trasalire Lurzen e Baurzen. A queste notizie Gioacchino torna ad essere Murat. Richiede la sua sciabola d'onore e il suo cavallo di battaglia. Eccolo di nuovo a correre con la stessa velocità con la quale era scappato. Dicono che se ne stesse nel suo palazzo di Caserta o di Chiaromonte. No, certamente. Eccolo a chiudere le strade di Freiberg e di Pima. No, certamente. Eccolo a Dresda a schiacciare un'ala dell'esercito nemico perché Murat non fu ucciso a Baurzen come Duroc e non affogò all'Ipsia come Poniatowski? Non avrebbe firmato l'11 gennaio 1814 con la corte di Vienna il trattato con il quale si impegnava a fornire agli alleati 50.000 uomini e a marciare alla loro testa contro la Francia. Trattato con il quale restò re di Napoli mentre Napoleone diventava sovrano dell'isola d'Elba. Ma un giorno Joachim si accorse che, a sua volta, anche il suo nuovo trono trema e vacilla in mezzo ai vecchi. L'antica famiglia dei re si vergogna dei parvenus che Napoleone ha obbligato a trattare da fratello. I borboni di Francia hanno chiesto a Vienna la destituzione di Joachim. Nel contempo una voce strana si diffonde. Napoleone ha lasciato l'isola d'Elba e marcia su Parigi. L'Europa lo guarda passare. Murat crede che sia giunto il momento di fare la contrappeso nell'avvenimento che fa pendere il mondo. Ha riunito di nascosto 70.000 uomini e con essi si scaglia contro l'Austria. Ma questi 70.000 uomini non sono più francesi. Al primo ostacolo che incontra va in pezzi. Il suo esercito si dissolve come il fumo. Ritorna solo a Napoli. Sale su una barca, giunge a Tolone e viene a chiedere l'ospitalità dell'esilio a colui che ha tradito. Napoleone si limita a rispondergli. Voi m'avete perso due volte. La prima dichiarandovi contro di me. La seconda dichiarandovi in mio favore. Non c'è più niente in comune tra il re di Napoli e l'imperatore dei francesi. Vincerò o perderò, ma senza di voi. Da allora Joachim cessò di esistere per Napoleone. Solo una volta, quando il vincitore di Ligny spingeva i suoi corazzieri sull'altopiano di Mont Saint-Jean e li vedeva l'uno dopo l'altro crollare nei quadrati inglesi, mormorò «Ah, se Murat fosse qui!» Murat era scomparso. Nessuno sapeva che cosa gli fosse successo. Doveva riapparire solo per morire. Entriamo in Pizzo. Come si può ben capire, Pizzo, come Avignone, era per me quasi un pellegrinaggio di famiglia. Se il maresciallo Bruno era il mio padrino, il re di Napoli era l'amico di mio padre. Da bambino ho tirato le basette dell'uno e i baffi dell'altro ed ho caracollato più volte sulla sciabbola del vincitore di Fribourg con in testa il cappello dalle piume splendenti dell'eroe di Aboukir. Venivo dunque a raccogliere, se posso dirlo, ad una d'una le ultime ore d'una delle più crudele agonie di cui i fasti della storia abbiano conservato il ricordo. Avevo preso tutte le mie precauzioni in anticipo, a Vulcano come si sa i figli del generale Nunziante mi avevano dato una lettera di raccomandazione per il cavaliere Alcalà. Il generale Alcalà, generale del principe dell'Infantado, nel 1815 stava a Pizzo dove abita ancora e aveva reso al prigioniero tutti i servigi che aveva potuto renderli. Durante tutti i giorni della sua prigionia era andato a trovarlo ed aveva preso congetto da lui con un ultimo addio qualche istante prima della morte. Avevo appena consegnato al signore Alcalà la lettera di raccomandazione di cui ero latore che gli capì subito l'interesse che nutrivo per i più piccoli particolari della catastrofe di cui volevo diventare lo storico. Mi seguì quindi tutti i suoi ricordi a mia disposizione. Da prima cominciamo col visitare Pizzo. Pizzo è una piccola città di 1500-1800 anime costruita sul prolungamento d'uno dei contrafforti della grande catena di montagne che parte dagli appennini un po' più su di potenza e giunge sino al reggio dividendo tutta la Calabria. Così come a Scilla questo contrafforte si protende nel mare con un lungo crinale di rocce sull'ultima delle quali è costruita la cittadella. Pizzo domina dunque la spiaggia dai due lati da un'altezza ad un centinaio di piedi. Alla sua destra è il Golfo di Sant'Eufemia alla sua sinistra è la costa che si estende sino a Capo Lambroni. Al centro di Pizzo c'è una grande piazza pressa poco quadrata mal costruita in cui sboccano tre o quattro vie tortuose. Nella parte meridionale questa grande piazza è abbellita dalla stata di Re Ferdinando padre della regina Amelia e nonno dell'attuale Re di Napoli. Per andare al mare bisogna scendere dai due lati della piazza. Da destra si scende da un pendio dolce e sabbioso da sinistra da una scala ciclopica formata come quella di capteo da larghe lastre di granito. Cesi da questa scala ci si ritrova su una spiaggia cosparsa di casette all'ombra di alcuni olivi. A 60 passi dal mare manca ogni vegetazione e non c'è altro che un lungo manto sabbioso nel quale si sprofonda sino alle ginocchia. fu da questa piccola spiaggia che l'8 ottobre 1815 tre o quattro pescatori che avevano steso le loro reti che non pensavano di utilizzare più nella giornata anche perché quell'8 ottobre era una domenica scorsero una piccola flottiglia composta di tre navi che dopo aver avuto un attimo di indecisione sulla rotta da seguire si diressero improvvisamente verso Pizzo. a circa 50 passi dalla riva le tre navi misero in panna ed una scialuppa fu buttata in mare 31 persone vi si sistemarono ed essa avanzò verso la costa tre uomini stavano in piedi sulla prua il primo dei tre era Miurà il secondo il generale Franceschetti e il terzo l'aiuto di campo Campana le altre persone che si trovavano nella barca erano 25 soldati e tre domestici quanto alla flottiglia in cui era il resto della truppa e il tesoro di Miurà era rimasta sotto il comando di un certo Barbara maltese di nascita che Miurà aveva colmato di onori e che aveva nominato ammiraglio arrivando vicino alla riva il generale Franceschetti stava per saltare a terra ma Miurà lo fermò mettendogli una mano sulla testa e dicendogli scusate generale tocca a me scendere per primo e dette queste parole si lanciò sulla spiaggia il generale Franceschetti saltò dopo Miurà e Campana dopo Franceschetti in seguito sbarcarono i soldati e poi i domestici Miurà indossava un abito blu ricamato d'oro al collo al petto e alle tasche portava dei pantaloni di cashmere bianco stivali da cavallerizzo una cintura con due pistole un cappello ricamato come il vestito ornato di piume e il cui cordoncino era formato da 14 diamanti che potevano valere pressa poco mille scudi ciascuno inoltre sotto il braccio sinistro portava arrotolata la sua antica bandiera reale sotto la quale pensava di radunare i suoi nuovi partigiani alla vista di quella piccola truppa i pescatori si erano ritirati Miurà trovò dunque la spiaggia deserta ma non c'era da ingannarsi dal luogo dove era sbarcato vedeva perfettamente la scala gigantesca che porta la piazza chiede l'esempio alla sua piccola truppa mettendosi in testa e marciando dritto verso la città a metà circa della scala si girò per dare uno sguardo alla flottiglia vide che la scialuppa si ricongiungeva alla nave credette che ritornasse per caricare altri soldati e continuò a salire quando arrivò alla piazza suonavano le dieci la piazza era colma di gente era l'ora in cui stava per cominciare la messa lo stupore fu grande quando si vide arrivare la piccola truppa guidata da un uomo così riccamente vestito da un generale e da una aiutante di campo Miurà si inoltrò verso il centro della piazza senza che nessuno lo riconoscesse tanto era lontano il pensiero di rivederlo ancora eppure Miurà era venuto a Pizzo cinque anni prima nell'epoca in cui era re ma se nessuno lo riconobbe fu lui a riconoscere tra i contadini un ex sergente che aveva servito nella sua guardia a Napoli Miurà come la maggioranza dei sovrani aveva la memoria dei nomi andò dritto verso l'ex sergente gli mise le mani sulle spalle e gli disse tu ti chiami Tavella si disse quello che volete da me Tavella non mi riconosci continuò Miurà Tavella guardò Miurà ma non rispose Tavella sono Joachim Miurà disse il re a te l'onore di gridare per primo viva Joachim la piccola truppa di Miurà gridò subito viva Joachim ma il calabrese restò immobile e silenzioso e non uno dei presenti rispose con un sol grido alle acclamazioni a cui lo stesso ex re aveva dato inizio anzi un brusio strano cominciò a serpeggiare tra la folla Miurà avvertì che era un brusio di tempesta e rivolgendosi di nuovo al sergente Tavella gli disse va a cercarmi un cavallo e da sergente qual eri farò di te un capitano Tavella senza rispondere si infilò in una delle vie tortuose che boccano nella piazza rientrò a casa e vi si chiuse durante quel tempo Miurà era rimasto nella piazza dove la folla diventava sempre più numerosa allora il generale Franceschetti accortosi che nessuno gesto amichevole accoglieva il re e che al contrario il viso degli astanti diventava da un minuto all'altro sempre più scuro si avvicinò al re Sire disse che bisogna fare pensi che quell'uomo mi porterà un cavallo non lo credo affatto disse Franceschetti allora andiamo a piedi a Monteleone dire sarebbe più prudente rientrare a bordo è tardi ormai i dadi sono tratti che il mio destino si compia a Monteleone a Monteleone a Monteleone ripetè tutta la truppa e seguì il re che mostrandole il cammino marciava alla sua testa il re per andare a Monteleone prese la stessa strada che noi avevamo fatto per venire da questa città a Pizzo ma in quella circostanza suprema si era perso ormai troppo tempo nel momento stesso in cui Tavella era andato via tre o quattro uomini se l'erano svignata non per chiudersi come aveva fatto l'ex sergente della guardia nelle loro case ma per andare a prendere fusili e giberne eterni compagni dei calabresi uno di loro chiamato Giorgio Pellegrino dopo essersi armato era corso da un capitano dei gerdarmi chiamato Trenta Capelli il cui soldati erano a Cosenza ma che si trovava momentaneamente presso la sua famiglia a Pizzo gli raccontò ciò che era appena successo proponendogli di mettersi alla testa della popolazione e di arrestare Murat Trenta Capelli capì subito i vantaggi che potevano derivargli da un simile servizio reso al governo era in uniforme pronto ad andare a messa uscì velocemente da casa sua seguito da Pellegrino si avviò verso la piazza e propose alla popolazione già rumoreggiante di mettersi alla caccia di Murat il grido alle armi risuonò subito ognuno si precipitò nella propria casa per uscire con un fucile e guidata da Trenta Capelli e Giorgio Pellegrino tutta la folla si lanciò verso la strada di Monte Leone tagliando a Murat e alla sua truppa la ritirata Murat aveva raggiunto il ponte che si trovava a circa trecento passi prima di Pizzo quando sentì dietro di lui le grida di tutta la muta che abbagliava sulla sua via si girò e poiché non sapeva scappare aspettò Trenta Capelli marciava in testa quando vide Murat fermarsi non volle perdere l'occasione di farlo prigioniero con le sue mani fece un cenno alla popolazione perché restasse ferma là dove si trovava e si avvicinò da solo verso Murat che a sua volta venne da solo verso di lui come vedete la ritirata vi è tagliata gli disse vedete anche che siamo trenta contro uno e pertanto non avete possibilità di resisterci consegnatevi e risparmierete uno spargimento di sangue ho qualcosa di meglio da offrire disse a sua volta Murat seguitemi unitevi a noi con tutta la truppa e ci saranno le spalline di generale per voi e cinquanta Luigi d'oro per ogni vostro uomo ciò che mi proponete è impossibile disse trenta capelli siamo tutti devoti a re Ferdinando per la vita e per la morte non potete metterlo in dubbio nessuno ha risposto al vostro grido viva Joachim non è vero ascoltate e trenta capelli alzando in aria la sua spada gridò viva Ferdinando viva Ferdinando risposero all'unisono tutta la popolazione alla quale cominciavano a riunirsi donne e bambini che accorrevano e si ammucchiavano nella retroguardia sarà dunque ciò che Dio vorrà disse Gioacchino ma non mi consegnerò allora disse trenta capelli il sangue ricada su coloro che lo faranno scorrere spostatevi capitano disse Murat impedite a quest'uomo di prendere la mira e gli mostrò col dito Giorgio Pellegrino che mirava su di lui trenta capelli si gettò da un lato il colpo partì ma Murat non fu colpito ma allora Murat capì che se un solo colpo di fucile fosse partito dalla loro parte ci sarebbe stata una carneficina e lui e i suoi uomini sarebbero stati fatti a pezzi capì che si era sbagliato sullo spirito dei calabresi non gli restava che una risorsa rientrare alla frottiglia fese un cenno a Franceschetti e Campana e lanciandosi dal ponte sulla spiaggia cioè da un'altezza di trenta trentacinque piedi ricadde senza farsi male sulla sabbia Campana e Franceschetti saltarono dopo di lui e furono altrettanto fortunati tutti e tre si misero poi a correre verso la riva in mezzo alle gride di tutta la plebaglia che non osando seguirlo per la stessa via ridiscese urlando verso Pizzo per raggiungere la larga scala di cui abbiamo parlato e che portava la spiaggia Murat credette ad essere salvo perché pensava di ritrovare la scialuppa sulla riva e la flottiglia là dove l'aveva lasciata ma alzando gli occhi verso il mare del mare si accorse che la flottiglia lo abbandonava e riprendeva il largo trainando la scialuppa legata alla pruva della nave dove si trovava Barbara quel miserabile tradiva il suo capo per impadronirsi di tre milioni che come sapeva si trovavano nella stanza del re Murat non poté credere a un tradimento simile mise la bandiera in punta alla sua spada e fece dei segnali che però restarono senza risposta nel frattempo le pallottole di quelli che erano rimasti sul ponte piovevano intorno a lui mentre dalla parte della piazza si vedeva già venire fuori la testa della colonna che si era messa alla caccia dei fuggitivi non c'era tempo da perdere restava una sola possibilità di salvezza spingere in mare una barca che si trovava a venti passi e dirigersi forzando sui remi verso la flottiglia che certamente sarebbe a corsa in aiuto del re Murat e i suoi compagni si misero quindi a spingere la barca con la forza della disperazione la barca scivolò sulla sabbia e raggiunse l'acqua in quel momento partì una scarica e campana caldemorto trenta capelli pellegrino e tutto il loro seguito erano ormai a cinquanta passi dalla barca Franceschetti saltò dentro e con la spinta che le diede l'allontanò di due o tre passi dalla riva Murat stava per saltare a sua volta ma per una di quelle fatalità che distruggono le grandi fortune gli speroni dei suoi stivali da cavallerizzo restarono attaccati ad una rete che era distesa sulla spiaggia bloccato nel suo slancio Murat non riuscì a raggiungere la barca e cadde con il viso nell'acqua nello stesso momento e prima che si potesse rialzare la folla pusso di lui in un attimo le sue spalline furono staccate il suo abito ridotto a brandelli e il suo viso a sangue il pasto reale sarebbe stato consumato e ognuno avrebbe portato spietatamente via il suo pezzo se trenta capelli e Giorgio Pellegrino non fossero intervenuti a proteggerlo con i loro corpi si risalì tumultuosamente la scala che portava in città passando accanto alla statua di Riferdinando le grida raddoppiarono trenta capelli e Pellegrino capirono che Murat sarebbe stato massacrato se non l'avessero tolto al più presto dalle mani di quella plebaglia lo portarono verso il castello vi entrarono con lui si fecero aprire la porta della prima prigione che trovarono lo spinsero dentro e la richiusero dietro di lui Murat completamente stordito rotolò sul pavimento si alzò e guardò intorno a lui si trovava in mezzo ad una ventina di uomini prigionieri come lui ma per furti ed assassini l'ex granduca di Berg l'ex re di Napoli il cognato di Napoleone era in quella cella di condannati correzionali un momento dopo il governatore del castello entrò si chiamava Mattei e siccome era in uniforme Murat lo riconobbe per quello che era comandante esclamò Murat alzandosi dal banco in cui era seduto e andando dritto verso il governatore dite dite è questa una prigione dove mettere un re a tali parole e mentre il governatore balbettava qualche scusa furono i condannati che si alzarono a loro volta pieni di stupore avevano scambiato Murat per un compagno di furti e brigantaggio ed ora lo riconoscevano per il loro ex re dire disse Mattei dando nel suo imbarazzo al prigioniero il titolo che la legge proibiva di dare Sire se volete seguirmi vi porterò in una camera privata il re Gioacchino il re Gioacchino mormorarono i condannati si disse loro Murat alzandosi in tutta la sua altezza si il re Gioacchino che benché il prigioniero è senza corona non uscirà di qui senza lasciare ai suoi compagni di prigionia chiunque essi siano una traccia del suo passaggio ciò detto mise la mano nel suo borsello e ne tirò fuori una manciata d'oro che fece cadere sul pavimento poi senza aspettare i ringraziamenti dei miserabili di cui era stato compagno per qualche istante fece cenno al comandante che era pronto a seguirlo il comandante si avviò per primo gli fece attraversare un piccolo cortile e lo condusse in una stanza le cui due finestre si affacciavano l'una sul mare e l'altra sulla spiaggia dove era stato arrestato appena giunto gli chiese se desiderasse qualcosa vorrei un bagno profumato e dei sarti per rifarmi gli abiti l'uno e l'altro generale saranno abbastanza difficili da ottenere riprese Mattei dandogli questa volta il titolo ufficiale che si era stabilito di dargli e perché chiese Murà perché non so dove trovare delle essenze e perché l'unica cosa che i sarti di pizzo riuscirebbero a farvi è un costume del paese comprate tutta quell'acqua di colonia che trovate e fate venire dei sarti da Monteleone voglio un bagno profumato pagherò 50 ducati si trovi in modo di farmene fare uno quanto agli abiti fate venire i sarti e spiegherò loro che cosa desidero il comandante uscì dicendo che avrebbe cercato di eseguire gli ordini appena ricevuti un momento dopo dei domestici in Livrea entrarono portando tende di Damasco da mettere alle finestre sedi e poltrone dello stesso tipo ed infine materassi coperte e lenzuola per il letto la stanza in cui si trovava Murat era quella del custode e quasi tutte queste cose vi mancavano oppure erano in così cattivo stato che solo gente di bassa condizione poteva servirsene Murat chiese da parte di chi gli veniva tale attenzione gli risposero che era da parte del cavalier Alcalà ben presto si portò a Murat il bagno che aveva chiesto era ancora nella vasca quando gli annunziarono il generale annunziante si trattava di una vecchia conoscenza del prigioniero che lo ricevette da amico ma la posizione del generale annunziante era falsa e Murat si accorse subito del suo imbarazzo il generale avvertito a tropea di ciò che era successo a Pizzo veniva per compiere il suo dovere di interrogare il prigioniero e pur scusandosi col re dei rigori che per la sua posizione era costretto ad imporgli cominciò un interrogatorio allora Murat si accontentò di rispondere volete sapere da dove vengo e dove vado vero generale ebbene vengo dalla Corsica e vado a Trieste la tempesta ma spinto sulle coste della Calabria la mancanza di viveri ma obbligato a venire a Pizzo questo è tutto adesso volete rendermi un servizio mandatemi degli abiti per farmi uscire dal bagno il generale capì che se fosse rimasto più a lungo avrebbe corso il rischio di cedere ai convenevoli e di venir meno al suo dovere anche se forse un po' rigoroso preferì quindi ritirarsi per attendere gli ordini da Napoli e inviò a Miurà ciò che domandava era un uniforme completa da ufficiale napoletano Miurà la indossò sorridendo suo malgrado nel vedersi vestito con i colori di re Ferdinando poi chiese una penna inchiostro e carta e scrisse all'ambasciata d'Inghilterra al comandante delle truppe austriache e alla regina sua moglie aveva appena terminato di scrivere quei dispacci che si presentarono i sarti che aveva fatto venire da Monteleone subito Miurà con la frivolezza di spirito che lo caratterizzava passò dai problemi di vita e di morte che aveva appena trattato ad ordinare non due uniformi ma due vestiti completi spiegò nei più piccoli dettagli il taglio che desiderava per il vestito il colore dei pantaloni i ricami per il tutto poi sicuro che essi avessero perfettamente capito le istruzioni diede loro alcuni Luigi d'anticipo e li congedò dopo essersi fatto promettere che i suoi vestiti sarebbero stati pronti per la domenica seguente usciti i sarti Miurà si avvicinò ad una finestra quella che si affacciava sulla spiaggia dove era stato arrestato una folla numerosa era riunita intorno ad un fortino che è possibile vedere ancora oggi a fior di terra Miurà cercò vanamente di indovinare che cosa facesse lì intorno quella folla di curiosi proprio in quel momento il custode entrò per chiedere al prigioniere se volesse cenare Miurà gli chiese la causa di quell'assembramento oh non è niente rispose il custode come niente qualcosa faranno continuò Miurà bah rispose il custode guardano scavare una fossa Miurà allora si ricordò che in mezzo ai disordini provocati dalla sua cattura aveva visto cadere vicino a lui uno dei suoi uomini e che si trattava di campana tutto però era avvenuto in modo così rapido e imprevisto che aveva avuto appena il tempo di notare le circostanze più importanti che avevano preceduto e seguito immediatamente il suo arresto sperava dunque ancora di essersi sbagliato quando vide due uomini fendere il gruppo entrare nel fortino ed uscirne cinque minuti dopo portando il cadavere insanguinato di un giovane completamente privo di vestiti era quello di campana miurà cadde su una sedia e mise la testa tra le mani quell'uomo di bronzo che aveva caracollato su tanti campi di battaglia senza mai una ferita pur sempre in mezzo al fuoco e senza un attimo di cedimento si sentì distrutto alla vista improvvisa di quel bel giovane che la famiglia gli aveva affidato che era caduto per lui in una scaramuccia senza gloria e che uomini indifferenti seppellivano come un cane senza neanche chiedere il suo nome dopo un quarto d'ora miurà si alzò e si avvicinò di nuovo alla finestra quella volta la spiaggia tranne alcuni curiosi che si erano attardati era quasi deserta soltanto nel luogo dove prima c'era stato l'assembramento che aveva attirato l'attenzione del prigioniero c'era una leggera sopraelevazione che si faceva notare dal colore diverso che aveva la terra appena rivoltata ed indicava il luogo dove era stato seppellito campana due grosse lacrime silenziose scesero dagli occhi di miurà era talmente commosso che non vide il custode che entrato da alcuni minuti non osava rivolgergli la parola infine ad un movimento che il buon uomo fece per farsi notare miurà si girò eccellenza disse la cena è pronta bene disse miurà muovendo la testa come per far cadere l'ultima lacrima che tremava sulle sue palpebre bene eccomi sua eccellenza il generale annunziante chiede se gli è permesso di cenare con vostra eccellenza certo disse miurà comunicarglielo e ritorna fra cinque minuti miurà impiegò i cinque minuti per cancellare dal suo viso ogni traccia di emozione cosicché quando il generale annunziante entrò lui stesso al posto del custode lo ricevette con un viso così sorridente come se non fosse successo niente di straordinario la cena era preparata nella stanza vicina ma la tranquillità di miurà era solo apparente il suo cuore era a pezzi e inutilmente cercò di prendere qualcosa solo il generale annunziante mangiò e prevedendo che il prigioniero potesse avere bisogno di mangiare qualcosa durante la notte fece portare un pollo freddo pane e vino nella sua stanza dopo essere rimasto a tavola all'incirca un quarto d'ora miurà non potendo più sopportare l'attenzione che provava manifestò il desiderio di ritirarsi nella sua stanza e di restarvi solo e tranquillo sino all'indomani il generale annunziante si inchinò in segno di consenso e riaccompagnò il prigioniero nella sua stanza sulla soglia miurà si girò e gli diede la mano poi rientrò e la porta si richiuse dietro di lui il giorno dopo alle nove del mattino arrivò un dispaccio in risposta a quello che aveva comunicato il tentativo di sbarco e l'arresto di miurà il dispaccio ordinava la convocazione immediata del consiglio di guerra miurà doveva essere giudicato militarmente con tutto il rigore della legge che aveva emanato lui stesso nel 1810 contro qualsiasi bandito trovato nei suoi stati in possesso di armi tale provvedimento però al generale nunziante sembrava così rigoroso che sospettando che potesse esserci qualche errore nell'interpretazione dei caratteri telegrafici preferì aspettare un altro dispaccio scritto così il prigioniero ebbe un rinvio di tre giorni e ciò gli diede nuove speranze sul modo in cui sarebbe stato trattato ma il mattino del 12 maggio il dispaccio scritto arrivò era breve e preciso non c'era possibilità di eluderlo Napoli 9 ottobre 1815 Ferdinando per grazia di Dio eccetera abbiamo decretato e decretiamo quanto segue articolo 1 il generale Murat sarà giudicato da una commissione militare i cui membri saranno nominati dal nostro ministro di guerra articolo 2 al condannato per ricevere l'assistenza religiosa sarà concessa solo mezz'ora come si vede erano tanto sicuri della condanna che avevano già stabilito il tempo che doveva intercorrere tra la condanna e la morte un secondo decreto era legato al primo conteneva i nomi dei membri scelti per la composizione del consiglio di guerra tutta la giornata passò senza che il generale enunziante avesse il coraggio di avvertire Murat delle notizie che aveva ricevuto nella notte tra il 12 ed il 13 la commissione si riunì infine poiché era necessario che Murat comparisse davanti ai giudici non ci fu mezzo di nascondere di più a lungo la situazione in cui si trovava il 13 alle 6 del mattino il decreto di avvio del procedimento gli fu notificato gli venne anche comunicata la lista dei giudici fu il capitano Strati che gli fece la doppia comunicazione che Murat benché non se l'aspettasse ricevette come se vi fosse stato preparato e con sorriso sprezzante sulle labbra ma appena la lettura fu conclusa Murat dichiarò di non riconoscere un tribunale composto da semplici ufficiali che se lo si trattava da re per giudicarlo era necessario un tribunale di re se lo si trattava da maresciallo di Francia la sentenza poteva essere pronunciata solo da una commissione di marescialli ed infine se lo si trattava da generale il meno che si potesse fare per lui era di riunire una giuria di generali la missione del capitano Strati non era di rispondere alle richieste del prigioniero così si limitò a rispondere che il suo dovere era di fare ciò che aveva appena fatto e pregò il prigioniero che meglio di tutti conosceva i rigorosi obblighi della disciplina di volerlo scusare bene disse Murat d'altronde non è su di voi che ricade la colpa di questa odiosa decisione ma su Ferdinando che tratta uno dei suoi fratelli reali come un brigante andate e dite alla commissione che può procedere senza di me io non mi recorrò al tribunale e anche se mi ci si porta con la forza nessuna potenza terrena avrà il potere di farmi rompere il silenzio tratti si inchinò ed uscì Murat che era ancora a letto si alzò e si vestì velocemente non si illudeva sulla sua situazione sapeva che era stato condannato prima del tempo e aveva visto che tra la condanna e l'esecuzione gli era stata concessa solo mezz'ora passeggiava a lunghi passi nella sua stanza quando si presentò Francesco Froia relatore della commissione veniva a pregare Murat a nome dei suoi colleghi di presentarsi davanti al tribunale almeno per un istante ma Murat rinnovò il suo rifiuto allora Francesco Froia gli chiese quali erano il suo nome la sua età e il suo logo di nascita a tale domanda Murat si girò e con un'espressione di alteriggia difficile da descrivere sono disse Gioacchino Murat re delle due Sicilie nato alla Bastille Fortunière e la storia aggiungerà assassinato a Pizzo adesso che sapete ciò che volevate sapere vi ordino di uscire il relatore ubbidì cinque minuti dopo entrò il generale enunziante veniva a sua volta a supplicare Murat di comparire davanti alla commissione ma quello fu irremovibile passarono cinque ore durante le quali Murat restò chiuso da solo senza che nessuno venisse da lui poi la porta si riaprì e il procuratore reale la camera entrò nella sua stanza tenendo in una mano la sentenza della commissione e nell'altra la legge che lo stesso Murat aveva promulgato contro i banditi e in virtù della quale era stato condannato Murat era seduto capì che gli venivano a comunicare la sua condanna si alzò e rivolgendosi con voce sicura al procuratore reale leggete signore gli disse vi ascolto il procuratore reale lesse la sentenza Murat era condannato all'unanimità con un solo voto contrario terminata la lettura generale gli disse il procuratore reale spero che morirete senza alcun sentimento di odio nei nostri confronti è contro voi stesso che dovete avercela per la legge che avete fatto signore rispose Murat avevo fatto questa legge per i briganti non per le teste coronate la legge è uguale per tutti rispose il procuratore reale ciò è possibile disse Murat quando è utile a certa gente ma chiunque è stato re porta con sé una sacralità che prima di trattarlo come un comune mortale sarebbe opportuno rifletterci due volte io facevo l'onore al re Ferdinando di credere che non mi avrebbe fatto fucilare come un criminale mi ingannavo tanto peggio per lui non ne parliamo più ho partecipato a 30 battaglie ho visto cento volte la morte in faccia ci conosciamo da troppo tempo per non avere una certa familiarità l'uno con l'altro significa signore non avere una certa famiglia che quando sarete pronto lo sarò anch'io e non vi farò aspettare quanto ad avercela con voi non ce l'ho più che con un soldato che in una mischia avendo ricevuto dal suo capo l'ordine di sparare mi avesse tirato contro una pallottola andate signori capite che poiché il decreto del re non mi concede che una sola mezz'ora non ho tempo da perdere per dire addio a mia moglie e ai miei figli andate signori e sorridendo come quando era re aggiunse io vi abbia nella sua santa e degna protezione ma sto solo mi urassi sedette di fronte alla finestra che si affaccia sul mare e scrisse a sua moglie la lettera seguente di cui posso garantire l'autenticità avendola trascritta dalla copia stessa dell'originale che aveva conservato il calvaliere Alcalà cara Carolina a sua letizia addio 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 mostratevi degni di me vi lascio in una terra e in un reame pieno di nemici miei nemici mostratevi superiori alle avversità e ricordatevi di non credervi più di quanto siete pensando a ciò che siete stati addio vi benedico non maledite mai la mia memoria ricordatevi che il più grande dolore che provo nel mio supplizio è di morire lontano dai miei figli da mia moglie e di non avere nessun amico che possa chiudermi gli occhi addio addio mia Carolina addio figli miei ricevete la benedizione eterna le mie calde lacrime ed i miei ultimi baci addio addio non dimenticate il vostro infelice padre Pizzo Li 13 ottobre 1815 Joachim Miura nel momento in cui terminava la lettera la porta s'aprì Miura si girò e riconobbe il generale enunziante generale gli disse Miura sareste così gentile da procurarmi un paio di forbici se le chiedessi io probabilmente me le rifiuterebbero il generale uscì e rientrò qualche secondo dopo con l'oggetto richiesto Miura lo ringraziò con un cenno della testa gli prese le forbici dalle mani tagliò una ciocca dei suoi capelli e la mise nella lettera poi presentandola al generale il generale gli disse Mi date la vostra parola che questa lettera sarà consegnata alla mia Carolina ve lo giuro sulle mie spalline rispose il generale e si girò per nascondere la sua emozione su dunque generale disse Miura battendogli sulla spalla che cosa significa ciò diavolo siamo tutti e due soldati abbiamo visto la morte in faccia ebbene vuol dire che la rivedrò e sarò io questa volta a farla venire ad un mio ordine ciò che abitualmente non fa perché spero che mi lascerete ordinare il fuoco vero il generale annui con la testa adesso generale ditemi qual è l'ora fissata per la mia esecuzione stabilitelo voi stesso rispose il generale vuol dire che volete che io non vi faccia attendere spero che non crediate che sia questo il motivo andiamo generale sto scherzando ecco tutto Miura preso l'orologio dal taschino era un orologio ricco di diamanti nel quale c'era il ritratto della regina il caso volle che gli si presentasse davanti Miura lo guardò per un momento con un'espressione di dolore indefinibile poi con un sospiro guardate disse come la regina era somigliante poi stava per rimettere l'orologio nella tasca quando un tratto si ricordò il motivo per cui l'aveva preso oh scusate generale disse dimenticavo la cosa principale vediamo sono le tre passate sarà per le quattro se volete cinquantacinque minuti è troppo va bene generale disse enunziante e fece un movimento per uscire accorgendosi che stava per soffocare non vi rivedrò più disse Miura affermandolo le mie istruzioni dicono che assisterò alla vostra esecuzione ma voi me ne dispenserete non è vero generale non ne avrò la forza bene bene che bambino siete mi darete la mano passando e sarà tutto il generale enunziante si precipitò verso la porta sentiva che stava per scoppiare in singhiozzi dall'altra parte della soglia c'erano due preti cosa vogliono questi uomini domandò Miura pensano forse che io abbia bisogno delle loro esortazioni e non sappia morire chiedono di entrare sire disse il generale dando per la prima volta nel suo turbamento al prigioniero il titolo riservato ai reali entrino entrino disse Miura i due preti entrarono uno di loro si chiamava Francesco Pellegrino ed era lo zio di quel Giorgio Pellegrino che era causa della morte di Miura l'altro si chiamava Antonio Masdea adesso signori disse Miura facendo un passo verso di loro che volete ditelo presto mi fusciteranno tra tre quarti d'ora e non ho tempo da perdere generale disse Pellegrino veniamo a chiedervi se volete morire da cristiano morirò da soldato disse Miura andate a questa prima sgarberia Pellegrino si ritirò ma invece Antonio Masdea restò era un bel vecchio dalla figura imponente dal procedere grave e dalle maniere semplici Miura vedendo che non seguiva il suo compagno ebbe dapprima un momento di impazienza ma notando l'aria di profondo dolore che traspariva dal suo viso si trattenne ebbene reverendo non mi avete sentito non è così che mi avete ricevuto la prima volta che vi ho visto Sire è vero che allora eravate re ed io venivo a chiedervi una grazia infatti disse Miura il vostro viso non mi è nuovo dove vi ho visto aiutatemi a ricordare proprio qui Sire quando passaste da Pizzo nel 1810 venne per chiedervi un aiuto per terminare la nostra chiesa sollecitavo 25.000 franchi e me ne deste 40.000 perché prevedevo che vi sarei stato seppellito rispose sorridendo Miura ebbene Sire rifiutereste a un vecchio l'ultima grazia che vi chiede quale quella di morire da cristiano volete che mi confessi ebbene ascoltate quando ero ragazzo ho di subito ai miei genitori che non volevano che io diventassi soldato questa è l'unica cosa di cui debbo pentirmi dire volete darmi un attestato che morire da cattolico o senza difficoltà disse Miura e andando a sedersi al tavolo dove aveva già scritto redasse il seguente biglietto io Joachim Miura muoio da cristiano credendo nella santa chiesa cattolica apostolica e romana firmato Joachim Miura e consegnò il biglietto al prete il prete si allontanò reverendo disse Miura la vostra benedizione non osavo offrirvela apertamente ma ve la davo col cuore rispose il prete e pose le mani su quella testa che aveva portato il diadema Miura si inchinò e disse a bassa voce alcune parole che sembravano una preghiera poi fece cenno a Don Masdeo di lasciarlo solo questa volta il prete obbedì il tempo fissato tra la partenza del prete e l'ora dell'esecuzione passò senza che si potesse dire ciò che fece Miura durante quella mezz'ora probabilmente rivide tutta la sua vita che dall'oscuro paese natio dopo aver brillato come una meteora reale ritornava a spegnersi in un paese sconosciuto tutto ciò che si può dire è che una parte del suo tempo lo impiegò a fare toilette perché quando ritornò al generale nunziante lo trovò lo trovò pronto come se dovesse partire per una parata i suoi capelli erano regolarmente separati sulla fronte ed inquadravano il suo viso maschio e tranquillo teneva una mano sullo schienale di una sedia e stava in posizione d'attesa siete cinque minuti in ritardo disse tutto è pronto? il generale nunziante era tanto commosso che non potò non poter rispondergli Miura si accorse però chiaramente che era atteso nel coltile d'altronde proprio in quel momento il rumore dei calci di parecchi fusili risuonò sul pavimento addio generale addio disse Miura vi raccomando la mia lettera alla mia Carolina poi vedendo che il generale nascondeva la testa tra le mani uscì dalla stanza ed entrò nel cortile amici disse ai soldati che l'aspettavano voi sapete che sarò io ad ordinare il fuoco il cortile è troppo stretto perché possiate mirare giusto mirate al cuore salvate il viso e andò a mettersi a sei passi dai soldati quasi addossato a un muro e salì un po' più in alto su uno scalino ci fu un attimo di tumulto nel momento in cui stava per ordinare il fuoco erano i prigionieri correzionali che avendo una sola finestra con la grata che si affacciava sul cortile si ammassavano per poter guardare l'ufficiale che comandava il picchetto impose loro il silenzio ed essi tacquero allora Murat comandò la carica freddamente tranquillamente senza fretta senza ritardi come se fosse stato un semplice esercizio alla parola fuoco solo tre colpi partirono Murat restò in piedi tra i soldati intimoriti sei non avevano sparato tre avevano sparato sopra la sua testa fu allora che quel cuore di leone che faceva di Murat un semidio nelle battaglie si mostrò in tutta la sua terribile energia non un muscolo del suo viso si mosse non un solo movimento indicò il timore ogni uomo può avere il coraggio per morire una sola volta lui Murat ne aveva per morire due volte grazie amici miei disse grazie per il sentimento per cui mi avete risparmiato ma poiché bisognerà sempre finire là dove avete cominciato ricominciamo e questa volta nessuna grazia vi prego e ricominciò ad ordinare la carica con la stessa voce calma e sonora guardando ad ogni ordine il ritratto della regina infine la parola fuoco si fece sentire seguita da una detonazione e Murat cadde colpito da tre pallottole fu ucciso sul colpo una pallottola aveva trafitto il cuore lo sollevarono e trovarono nella sua mano l'orologio che non aveva abbandonato e nel quale c'era il ritratto ho visto quell'orologio a Firenze nelle mani di madame Murat che l'aveva riscattato per 2400 franchi si portò il corpo sul letto e dopo aver redatto il verbale dell'esecuzione si richiuse la porta durante la notte il cadavere fu portato in chiesa da quattro soldati fu buttato nella fossa comune e poi su di lui gettarono dei sacchi di calce infine si richiuse la fossa e si sigilò la pietra che da allora non è stata più riaperta una strana voce si sparse si disse che il cadavere era stato portato in chiesa decapitato e bisogna credere a certe leggende orali la testa fu portata a Napoli e consegnata a Ferdinando fu poi conservata in un boccale d'acquavite perché se qualche avventuriero avesse voluto approfittare della sua fine isolata e oscura per tentare di prendere il nome di Gioacchino gli si potesse rispondere subito mostrandogli la testa di Murat la testa era custodita in un armadio posto alla testata del letto di Ferdinando e di cui solo lui teneva le chiavi cosicché fu soltanto dopo la morte del vecchio re che suo figlio Francesco spinto dalla curiosità aprì l'armadio e scoprì il segreto paterno così morì Murat all'età di 47 anni perso dall'esempio che gli aveva dato sei mesi prima Napoleone rientrando dall'isola d'Elba quanto a Barbara che aveva tradito il suo re e che si era pagato da solo il tradimento impadronendosi dei 3 milioni depositati nella sua nave attualmente vive chiedendole l'emosina nei caffè di Malta dopo aver ricevuto dalla stessa bocca di testimoni oculari tutti i particolari relativi a questo triste argomento cominciamo la visita delle località che vi sono segnalate la nostra prima visita fu per la spiaggia dove ebbe luogo lo sbarco si mostrarono in riva al mare la dove la costodiscono come oggetto di curiosità la vecchia scialuppa che Murat cercava di spingere verso il mare quando fu preso e la cui carcassa è ancora forata da due pallottole davanti al fortino ci facemmo mostrare il luogo dove è seppellito campana non c'è nulla che lo indichi alla curiosità dei viaggiatori ed è coperto di sabbia come tutta la spiaggia dalla tomba di campana ci avviamo a misurare la roccia dalla cui cima il re e i suoi compagni erano saltati è all'incirca 35 piedi di là ritornammo al castello è una piccola fortezza senza grande importanza militare dove si arriva da una scala stretta tra due muri due porte la chiudono durante la salita arrivati all'ultimo gradino alla destra c'è la prigione dei condannati correzionali alla sinistra l'entrata della stanza che occupò Miurà e dietro in una rientranza della scala il luogo dove fu fucilato il muro che si eleva dietro lo scalino sul quale Miurà era salito porta ancora le tracce di sei pallottole tre di esse hanno attraversato il corpo del condannato entramo nella stanza come tutte le stanze dei poveri in Italia è composta di quattro pareti nude imbiancate con calce e coperte di una moltitudine di immagini di madonna e santi di fronte alla porta era il letto dove il re sudò la sua agonia dei soldato vedemmo due o tre bambini coricati disordinatamente su quel letto una vecchia donna accovacciata e che aveva paura del colera recitava il rosario in un angolo nella stanza vicina dei soldati cantava una squarciagola l'uomo che ci fece l'onore di farci visitare la triste abitazione era il figlio del vecchio custode era un uomo di 30-36 anni aveva visto un mirà durante i 5 giorni della sua detenzione e si ricordava a meraviglia perché a quell'epoca poteva avere 15-16 anni d'altronde nessun ricordo materiale era rimasto di questa grande catastrofe ad eccezione delle pallotte penetrate nel muro fece un disegno molto preciso della stanza del cortile è difficile vedere qualcosa d'aspetto più triste di questi muri bianchi che si stagliano con dei contorni precisi su un cielo d'un blu indaco dal castello rientrammo in chiesa la pietra sigillata sul catavere di Miurà non è stata mai riaperta dalla volta pende come un trofeo di vittoria la bandiera che aveva con lui e che gli avevano portato via al mio ritorno a Firenze verso il mese di dicembre dello stesso anno madame Miurà che dimostrava in questa città col nome di Contessa di Lipari sapendo che rientravo da Pizzo mi fece pregare di passare da lei mi affrettai ad accettare il suo invito non aveva mai avuto notizie precise sulla morte di suo marito e mi pregò di non nasconderle nulla le raccontai tutto ciò che avevo saputo a Pizzo fu allora che mi fece vedere l'orologio che aveva riscattato e che Miurà teneva in mano quando cadde quanto alla lettera che aveva scritto pochi momenti prima di morire non l'aveva mai ricevuta e fu io a dare la prima copia dimenticavo di dire che il ricordo e ricompensa del servizio reso al governo napoletano la città di Pizzo è esentata per sempre da ogni diritto e imposta di Pizzo